Il tentativo di allungo del Bari di scena ad Acireale nel girone I, il derby Fasano-Taranto e la sfida tra Gravina e Picerno nel girone H saranno i piatti principali del turno numero 8 del campionato di Serie D in campo nel pomeriggio di domenica. Nel girone I, dopo il rotondo successo sull'Ocri che ha spezzato la serie di due pareggi consecutivi, il Bari alla quarta trasferta in Sicilia da inizio stagione scenderà in campo ad Acireale con una ritrovata consapevolezza dei propri mezzi. I biancorossi sfideranno un avversario ancora imbattuto tra le mura amiche ma reduci dal brutto scivolone sul campo della città novese. Al netto del valore dei siciliani, Floriano e compagni saranno chiamati all'ennesima dimostrazione di superiorità su un campo di categoria, con la possibilità, magari, di tentare l'allungo in classifica visto il non facile impegno della Nocerina sul campo del Portici. Meno definita è soggetta a continui ribaltoni e la situazione in un girone H che vedrà nel derby tra Fasano e Taranto la sua principale attrazione. Alla sfida del Curlo le due squadre arrivano con stato d'animo completamente opposto. La scuola di La Terza è reduce dal grande successo sul campo del Bitonto e si giocherà tra le mura amiche la possibilità di sorpassare gli Ionici che hanno perso la vetta con il rovinoso K.O. interno con la Fidelissandria e saranno chiamati al pronto riscatto. Rilevare il posto in vetta della classifica non più occupato dalla squadra di Panarelli è stato il Picerno che farà vista ad un Gravina in evidente crescita. Dopo un inizio balbettante la squadra del tecnico Di Mio sembra aver imboccato la strada giusta e dopo i due successi contro Ercolanese e Sorrento si misurerà con una Big per provare a spiccare definitivamente il volo. Chi con le Big si è già misurate con risultati eccellenti è la Fidelissandria, pronta a continuare il proprio momento magico nel match interno contro il Pomigliano avversario meno ostico di Picerno e Taranto ma da prendere comunque con le pinze. Facile sulla carta ma da affrontare con la dovuta concentrazione sarà per la team Altamura la gara interna contro un Sorrento reduce da due K.O. di fila ma pronto ad impensierire i Murgiani cui il successo al D'Angelo manca addirittura dal derby contro il Gravina della seconda giornata. Con l'obiettivo di trovare il successo scenderà in campo anche il Bitonto a Nola. I Neroverdi dopo il primo K.O. stagionale sfideranno una squadra capace di mettere in difficoltà il Cerignola ma fin qui sempre sconfitta in casa. Il quadro degli impegni con protagonista delle pugliesi di Serie D è completato dal difficile impegno del Nardò pronto ad ospitare il Francavilla per tornare a far punti dopo due K.O. consecutivi.